ah.. come bene non eravamo scherzo no non si aspetta no ahahahaa adesso tutto quando ti è per favore vieni qui aspetti un'idea vanno a riassembliare ecco c'era io non ho capito che niente eh vai giù dammi la sua saliva qua figlio adesso guarda troppo grande adesso ho una grande c'era va tutto a fuoco bravo bravo belicane va bene va bene andiamo proprio qua va bene uuuuuh ma non è che anche io ci voglio andare uuuuuh 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 o belicane uuuuuh uuuuuh